Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno! Riccardo, buongiorno! Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti! Buongiorno, Mimmo! Buongiorno, un saluto a tutti i Giovanni, ovviamente, visto che oggi è San Giovanni. Ma sul serio? È anche una festa cittadina. E allora dobbiamo... Gianni, Giovanni, Nanni... Mio papà, mio papà. Mi devi aiutare, cioè, a tutti i Gianni... Ma in particolare a Giovanni di Castelmadama, Mimmo, che c'è... Ah, bene, se vuoi, guarda, io non mi tiro indietro, eh. Eh, stai scherzando? Quello è proprio... Giovanni di Castelmadama e tutti quanti i Gianni e Giovanni, i Nanni che conosciamo, i Gio, e tutti quelli... John, che papà da qua, tutti quanti... I James? Ah, anche, come ti pare, però quello è Giacomo. Ah! Però io capisco che... Eh, però quello è Giacomo. E Jimmy pure è Giacomo? Chi? Jimmy? Jimmy, non lo so, Jimmy. È un cameriere amico mio che saluto, però... Jimmy il Fenomeno, Jimmy Fontana, Jimmy Chione... Ah, Jimmy il Fenomeno, Jimmy Fialettini, che è un ex calciatore. Eh, Jimmy Fontana, buon'anima, no? Eh, sì. Il mondo, quante volte l'hai cantata? Uh, madonna... E qual è il tuo mondo, Riccardo, dai? Il mio mondo non esiste più, Mimmo. Il tuo mondo non esiste, è un'utopia. Il mio mondo si va tutti d'accordo, ci si vuole bene. Gabriele, come si chiama un mondo dove tutto va bene, dove tutti vanno d'accordo, dove non c'è violenza? Dove non esiste Facebook. Si diceva Tommaso Campanella, come lo chiamava? Si può parlare di utopia, Mimmo, utopia, come vuoi. Se studiate poesie, però... Io quanto amato Tommaso Campanella all'ora di ricreazione mi faceva proprio imposto. Esattamente. Va bene. Anche perché non ho fatto il militare e stavo tutti i giorni a bar. A sedarbare, c'è. Questa è filologia romantica. Mi. Sarà anche la città del sole, Mimmo. Bravo, bravo. Non sarà... Come, scusami? Va bene, la città del sole, va bene. Io me la ricordo, Albano. Ma perché... Ma perché questa nu... Senti, Mimmo, tutti preoccupatissimi da Brexit. Tutti preoccupatissimi dal Brexit, te lo dico. Ma immagino che ne abbiate parlato, no? Sì, sì, abbiamo fatto anche degli approvoli. Ho seguito in qualche modo attraverso internet le vostre evoluzioni e devo dire che è un argomento molto, molto delicato, diciamo così, no? Che investe tutto, quindi investendo tutto investe anche nella sfera sportiva, la sfera calcistica. Io ho letto da qualche parte che avete avuto interventi assolutamente qualificati, che avranno spiegato tutto quello che c'era da spiegare. Insomma, la situazione è abbastanza rivoluzionaria, se vogliamo, no? Perché improvvisamente coloro che danno degli estracomunitari e l'altro sono trovati loro volte estracomunitari. Molto rileva questa cosa. E improvvisamente i calciatori non inglesi sono estracomunitari, ma al tempo stesso anche i calciatori provenienti da paesi che non sono l'Inghilterno sono diventati estracomunitari, cioè c'è un viceversa, no? Con tutto quello che ne concerne anche a livello di tesseramento, immagino ne abbiate parlato, no? Quindi, insomma, la situazione è molto indivenita e bisognerà capire tante cose, anche la perdita di potere che ha avuto la sterlina che è tornata a dei livelli di circa 30 e passa anni fa, quindi, insomma, non so quale sia proprio la potenza economica a questo punto, se parliamo di sterlina, ovviamente. C'è questo paradosso, Mimmo, che da un lato i club inglesi sono pieni di soldi e di proprietari stranieri e che tra l'altro hanno pure preso i tecnici migliori che ci sono in giro per il mondo. Il calcio inglese è un calcio strano, non ha dei grandi valori, lo stiamo vedendo, però c'ha tanti soldi, perlomeno la Premier League è il campionato più ricco, che c'è in circolazione, va a cercare dei tecnici stranieri, va a cercare delle stelle che sono straniere, insomma, da quello che è accaduto con questo referendum, ci sarà da investigare anche delle piccole cose, insomma, sarà un po' meno difficile poter andare a giocare in Inghilterra e non soltanto perché, immagino, abbiate parlato, no, Gabriele, con tutti i paletti che c'erano prima, la presenza nazionale, eccetera, ovviamente ne avete parlato, però c'è anche un discorso che dopo ha permesso di lavoro, che diventa un pochino più complicato se non sei più comunitario, ma sei un extracomunitario e il primo pensiero ovviamente corre a tutti coloro che sono lì e quelli che potrebbero andare lì, paradossalmente oggi andare a comprare in Inghilterra conviene, ovviamente non a comprare i calciatori inglesi, ma i calciatori di passaporto inglese che per tutta una serie di motivi potrebbero non trovare più così spazio nei club inglesi proprio per problemi legati al permesso di lavoro che lì si rinnova a intervalli molto regolari e non molto lunghi, al tempo stesso però viene anche da pensare che magari qualcuno che viene dato in arrivo a Londra, zona limitrofe, probabilmente non sarà più così direttamente certo, non so se sono stato abbastanza chiaro, spero di no, come magari si poteva pensare fino all'altro giorno perché non è soltanto un problema di di volontà, di questo o di quello, non è soltanto un problema di soldi ma anche un problema di natura proprio, di status civile diciamo così, relativo ovviamente alla società inglese e quindi tutta una serie di discorsi che si potrebbe rapire ad esempio legati ai nomi dei giocatori che più ci interessano, Angolan, Florenzi, Rudiger, che vengono indirizzati in qualche modo da radiomercato verso il Chelsea, sarà da capire innanzitutto quando poi gli effetti di questo referendum saranno operativi diciamo così e questo è già un punto capire se tutto sarà postatato, se partirà anche, parlo ovviamente di calcio, non se ne avranno a mare coloro che adesso stanno parlando di politica o di economia finanziaria, però parlo di calcio appunto quando gli effetti di questo Brexit saranno reali diciamo così e comunque sarà importante capirlo e ci aiuterà a capire tante cose, anche il riferimento lo dicevo prima ai giocatori che maggiormente ci interessano. Nel frattempo, Mimmo, quante volte nell'arco della tua esperienza Nell'arco della tua esperienza Hai visto Camminavo lentamente E quel viale Scomettenta ricordi più E ricordo che stringevo una bandiera Mi fermo Riccardo No, devi andare avanti No, mi fermo Eh va bene, va bene Hai visto magari Perché sei piccolino quando c'era Falcino No, lì mi sentivo Io ero abbastanza vecchio pure Riccardo Eh, allora qui c'è Stai millantando delle cose C'è una menzogna di fondo Ma l'autore 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 Sei un menzognero? No, l'autore in genere racconta una cosa di se stesso Anche passandole, regalandole agli altri A me serviva un bambino, capito? E mi serviva rima cordivino Ah, vabbè, dovevi fare rima cordivino E dai, e dai Il vino ci sta sempre nelle rime di Riccardo Senti, ma cos'è che ha fatto un sessantino? Ma chi è? Falcao Quando ha fatto? Ma in che senso? Sessanta milioni da parte Lui un sessantino, lui è del 53 Da mo' che ha fatto un sessantino? Sì, ma dovresti sapere come ha fatto? Come ha fatto? Un punta di penna Tutte gigantrocafie da Roma Ma te che? Ma sa dare Fidete, fidete Ma sa dare C'è manco che a Roma Ho fatto il militare a Cuneo Il banco di Roma, sì Ma a Roma non lo so Comunque No, no, no Andiamo avanti Mi stai per chiedere una cosa, Riccardo Senti, ma è stato il giocatore più importante, secondo te? Della Roma? Eh No, è più forte, eh No, è più forte Il più importante in che, diciamo, arco di tempo? Sai io che ricordo ciò di Falcao? Che noi veramente No, non mi diri Non mi diri, Riccardo Perché lì lo sai che Ti stanno a mascontrare Ma tu pericori Ma no, che pericore? Io penso che Falcao ha sicuramente dato un'impronta A quella che poi sarebbe diventata la Roma Dello Scudetto 82-83 Però io non ce la faccio proprio A dimenticarmi che in quella Roma c'erano Bruzzo Ah, c'è manco Ci mancherebbe Ci mancherebbe, Mimmo Ci mancherebbe Però io sai che cosa mi ricordo Questo è sceso da aereo Ha detto Fra tre anni vincemo lo Scudetto Con lui Quelli della mia generazione Magari non proprio, però Beh, sono passati tre anni No, no Non è che ha detto Vincemo lo Scudetto Magari ha detto Ha detto altre cose Sì, comunque Cominciò a passare il messaggio Che Perché doveva andare a Torino a perde? Perché doveva andare a Milano a perde? Per noi era quasi Una sentenza Ogni volta Che si andava a Torino a Milano Sì, ma sai qual è il problema Ricca? Secondo me tanti altri calciatori Presidenti Non so, allenatori C'è quello che ti parla Hanno detto una cosa del genere Poi non sono stati aiutati dai risultati Perché probabilmente A differenza di Falcao Non c'erano vicino di Bartolomei Conti, Bruzzo E cose di questo genere No? Quindi devo dire che lui è stato molto bravo A proporre un'immagine di sé Insomma, tu te lo ricorderai Che a breve no Perché non so manco se era nato No, non era nato Esattamente Ma in quel periodo Falcao era divino Perché non era divino Soltanto in campo Cioè c'era un alone Intorno a sé Che emanava proprio Mancava che dava Comunione a domenica in chiesa Aveva fatto tutto È arrivato con Cristoforo Colombo E con Pato Eh? Non lo dimenticare mai Che mestiere faceva Pato? Pato faceva il fratello Di Latte e di Falcao No, il mestiere era quello Sua carta rientrino A voi vi dice male A voi vi dice male Perché state a parlare Che c'era Con uno che c'era Il primo giorno di allenamento Di Falcao E certo E quindi vi dice male E arriva sto Brasiliano con una barba I capelli Che ha a frangetta E vi assicuro Con un poncio Stile messicano De piani De piani estate Annaggia Che avrà fatto L'ana mortaccina Proprio della peggiore specie Ed è rapato Chi sei tu? So Pato Che fai? So fratello Del Latte e di Falcao Fratello di Lecce Sì sì Diciano Del Brasile De Lecce Che c'è stato A fare in Brasile Questa è una cazzata Che sembra Tra i danni Insomma Certo Però è così E il mestiere faceva Falcao Dice Che faceva Il coso Il Quello che urla Lì Come si chiama Il lo ziantonio Capito? Il commentatore Il radio O telecronista Eh esatto Il reporter Il reporter fa più figo E E E E mo' ho trovato lì A Tre Fontane Che cercava di capire Tante cose Ma insomma Anche queste cose Riccardo Faranno parte del libro Domitile Vivo Punto interrogativo Che verrà pubblicato Quando verrà pubblicato Ma quanto manca Secondo te? Eh lo devi dire a Davide Rosse Ah ecco Ecco Perché è postumo Capito? Ho capito Ho capito Ho capito E quindi quando poi sarà Metteremo tutto Nero su bianco Però Mitra Una cosa e l'altra No Quando dicevamo Ma è possibile Che sono tutti interessati A Naingolan A Pianici E Florenzi In suo fila Nessuno Ma te hai dato una Sensazione Ma dai Ma io avevo parlato Del Barcellino Ma figuri Ma dai Capone Sentimi O sai perché un pochetto Io ci credo a sta cosa A sta cosa che Conte vuole Florenzi Che se potrebbe innescare Un meccanismo Un meccanismo Dai parlami di sto meccanismo Dai Allora Quadrato dal Chelsea Deve andare a Juve Giusto? Beh giusto insomma Sì potrebbe Potrebbe Allora a Juve sì Allora io credo Di sapere Immagino Che Conte e la Juve Non si sono lasciati Benissimo Per cui Conte e la Juve Non si sono lasciati benissimo E quindi non gli avrebbe fatto Anche se fanno finta del contrario Esattamente Non gli avrebbe fatto regali Alla Juventus Se va Quadrato Ce lo paghi Quanto costa Costa 30 Ci devi da 30 Sì Però adesso In tutte le trattative Esistono i mediatori Esistono i procuratori E c'è un procuratore Che è bravissimo Da qualche anno È molto bravo Che fatale È il procuratore di Florenzi Alessandro Sì È il procuratore di Florenzi Molto bravo È di Quadrato Esattamente Quindi In teoria Quello fa di mestiere Intanto curare gli interessi Dei propri assistiti E poi comunque Non lasciarsi male Con le squadre Dice Vabbè allora Alla Juventus Se li mandiamo Quadrato Se può Ma vedi la scenetta Con Luce che va lì Decide lui No No Che decide Però Secondo te Come nascono le trattative No no Nascono certo Nascono Per esempio Te faccio una domanda Come nasce il fatto Che improvvisamente Si è saputo Che Piani Ci ha una clausola Sul contratto Perché qualcuno Gli faceva comodo Farlo sapere No Anche in questo caso Quindi come nascono Le trattative Perché magari Qualcuno Gli fa comodo Far sapere Una determinata cosa Ah mi ispetta Tu mi stai a dire Praticamente Che ci potrebbe essere Una tua sensazione Giuro 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 E poi Non giura troppo Perché No è una sensazione Una sensazione Benissimo Che lui ci potrebbe In qualche modo Sistemare Sia una cosa Che l'altra No No ma chiaramente Nel rispetto Dei regole Cioè parlando Assolutamente sì Ma la Roma Che ci guadagna In questo La Roma Perderebbe un giocatore Importante E ci guadagnerebbe I sordi Che ne so Eh ma allora Perché tu mi stai a dire Che a Roma Deve venne Florenzi No Io dico No nel senso Mi stai a dare Una notizia Però Allora no 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 Io sono rimasto Sì E tu magari stavi Nella grande mela Sì A fare grande melone Esattamente Prosciutto e melone Che Il presidente Pallotta Ha detto Io non vendo Nengolan Non vendo Rudiger Non vendo Pianci Però c'è la clausola Queste sono state parole No? Sì E quindi poi abbiamo Stiamo andato a finire Non mi hanno parlato mai Dei Florenzi Tu mi vuoi dire che non mi hanno parlato Dei Florenzi Perché In realtà L'uomo è Florenzi No C'è sta Sensation Io ti dico La verità C'è chi c'è in cabina di regia Mister Morris Mister Morris One Perché non può agevolare Sensation Te la ricordi? Sensation Andavi a battere Lì i tacchi Abbatti I tacchi Dagli te tacchi E dagli te punta Oh tu eri invecchio Tu mi hai intrigato Con una cosa Dica E però Ma devi dire Dopo Dopo Quando rientriamo Tra un minuto e mezzo Sì Quando vuoi Perché io non c'ero In quel momento Capito? Sì Allora tra un minuto e mezzo Ma dici Dai chiedo Ma chiedi Tra un minuto e mezzo Ma mi ci fai Pensiamo un po' Ricca De Mi stanno a fatto Vabbè Dai tra un minuto e mezzo No 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 Te la dico Te la dico De a clasula Di chi ha fatto comodo Perché io stavo fuori E mi sono perso un passaggio Ah ok perfetto Vai 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 Mimo Eccolo eh Eccolo Allora Ah Ah Aspetta la domanda Ah no Pensavo No la domanda magari Per chi non 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 era l'ascolto prima Della pubblicità era Chi può avere avuto interesse A Far sapere che si sia Una clausa sul contratto Di Pjanic Questa Sì Eh Pjanic Il produttore di Pjanic Eh La Roma La Juventus Un po' tutti io credo Perché Insomma non è stato un No non si può fare Trasferimento Perché non si parla Trasferimento Non è stato un Un discorso Complessivo Non c'è neanche come chiamarlo Perché non si può dire Trasferimento Perché Pensare se ci danno A clasula Quindi Però eh Se tu passi dalla Roma Alla Juventus Eh Diciamo che Non è come passare la Roma A qualsiasi altra squadra No E quindi probabilmente Ha fatto comodo a qualcuno Io non so chi Ho elencato una serie di persone Tutti gli attori Di questa Di questa vicenda Che magari Possano aver avuto l'interesse A far sapere Che c'era una clasula Che quindi Non era la Roma Che cedeva il calciatore Non era la Juventus Che lo comprava E' stata una scelta Del calciatore stesso Che aveva Allora però Mimmo andiamo per esclusione Al giocatore Come fai Se io andassi per esclusione Direi Chi ci ha avuto interesse Io posso fare soltanto Delle ipotesi No Allora ci vado io Vengo al tuo discorso Certo Ci vado io per esclusione Allora A Pjanic Sinceramente è convenuto poco Perché in teoria Non ne sarebbe uscito bene Lui si è avvalso Ha impugnato la clausola Sì La clausola Che sembrerebbe Però vorrei mi correggeste Se io sbagliassi Dimmi un po' Che la clausola Era una cosa Che lui aveva preteso Non che la Roma Nessi messa Questo che è stato detto Sì esattamente Sì sì Questo che è stato detto Bene E quindi lui Non ne esce bene A Juventus Che gli frega Per il giocatore Se è preso In teoria Se io dovessi Dovessi eseguire Stato a teoria Qua Mi viene da pensare Che è la Roma Che ha tutto l'interesse Di Vedete Ma tu sei malizioso Però se fai questo ragionamento Dai Vabbè mi però Non sono manco uno scemo Non sono manco No io ti dico che Quando c'è di mezzo Roma e Juventus La sensazione Che se cerchi Veramente Devi da Come posso dire Qualsiasi tipo Di pensiero negativo Da una parte O dall'altra E quindi O siamo stati Tutti tonti O sono stati Soprattutto tonti Tutti coloro Che Che seguono Quotidianamente La Roma Che fanno i cronisti Che si occupano Di mercato Che non sapevano Di questa clausola Perché non ne sapeva Niente nessuno Io sfido chiunque A sapere Dell'esistenza Della clausola Fino a che Improvvisamente Non si è saputo Pochi giorni prima Che poi Pianici in 448 Diventasse Angelo della Juventus Però a me È una cosa Che è abbastanza sorpreso Però poi Io so dell'opinione Che Pianici Ma della formula Della clausola Della clausola Perché Della clausola Innanzitutto Ma non ne parlavamo Qua Mimmo Dell'esistenza Della clausola Però qualcuno Certamente Chiunque poteva venire E se lo prendeva Con 38 milioni No non hai capito Però prima che Tutti dicessimo C'è una clausola La Juventus Lo prende Nessuno sapeva Della clausola Cioè Ti sto dicendo 2-3 mesi fa Nessuno sapeva Della clausola Di Pianici Riccardo A me Io mo te chiedo Scusa Magari mi sbaglio Quei tempi Ma io sono convinto Che noi abbiamo parlato Della clausola 3 mesi fa 4 mesi fa Te lo giuro Mimmo Che dicevamo Inutile pure Che il presidente Dice questa cosa Tanto lo sappiamo tutti No il presidente L'ha detta Quando è arrivato L'ultima volta Ma l'aveva già detto Un'altra volta No Quando è arrivato L'ultima volta Ha detto C'è un giocatore Su cui saremo noi Che non dice Qualche mese fa Invece Due mesi fa Non mi ricordo Quando Io ti parlo Di qualche mese Di più Siccome Magari questo È un discorso Che Ce lo stiamo portando Da tanto tempo E ti devo dare atto Questo te ne do atto Che tu per primo Hai fatto i nomi Di Biani Ce n'engo là In un discorso Di una Roma futura Mettendoci Degli ipotetici Punti interrogativi Vicino Te lo ricordi no? Sì Perché Insomma Perché sappiamo tutti Come vanno le cose Perché tante volte C'è necessità Voglia Desiderio Non lo so Che cosa Di vendere E se tu pensi O pensavi Due calciatori Che ti potessero fare Insomma Farvene Venire dentro le cazze Un bel bottino Pensavi sicuramente A Pianic e Nengola Più Pianic Sì Di Nengola Perché sarebbe stato Sopra Come si chiama Plus Valenza pura Plus Valenza Sì 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 Esattamente Per il costo storico Qui Ci può ovviamente Spiegare tutto Però io sfido chiunque A pensare Che facciamo Cinque o sei mesi fa Qualcuno sapesse Della clausola di Pianic Io Non ne ho mai sentito parlare Eppure un pochino Me ne occupo Insomma Però non fa niente questo Pensa che io credevo Di farti un complimento Perché me sa Che uno dei primi No 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 Evita i complimenti Perché non No 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 Ti dico semplicemente Che però a me Questo non interessa Perché io ho deciso Di non pensare più A quelli che non sono I calciatori della Roma Io voglio pensare A quelli che sono Della Roma O quelli che potrebbero Essere della Roma Certo Pianic è un calciatore Della Juventus E poi è andato lì Per la clausola Per il suo sovvenuto Non mi interessa Non mi deve interessare A me mi interessa Chi viene Migliorare sta squadra Questo è il mio punto Questo è il mio Ragionamento Brexit Si può dire così Gabriele Sì certo E secondo te Mimmo La faranno La squadra competitiva Io me lo auguro Tanto Me lo auguro Tanto perché Perché ci sono Le basi Per poterla fare C'è un grande Allenatore Al momento La Roma attuale Rispetto a quella Che ha chiuso La stagione Ha Rudiger di meno Perché è infortunato Ha Pianic di meno Perché non è più Un calciatore della Roma Digna che non è più Un calciatore della Roma Mettiamoci Uno strotto Ma migliore in più Eh Questo non va mai Dimenticato Sì In undici poi Si andrà in campo Io L'ho detto ieri L'ho ripetuto anche Nei giorni scorsi Riccardo Io voglio fidarmi Al cento per cento Di quello che sta Facendo Spalletti Di quello che sta Facendo la Roma Convinto che Con tutti questi Fenomeni O presunti tali Che ci abbiamo avuto Negli ultimi cinque anni Tu non hai vinto niente Allora io non voglio Più i nomi Voglio i calciatori Non voglio più Le belle figurine Voglio i calciatori Di rendimento Una squadra Spalletti decide Che per migliorare Questa squadra Gli serve Angelini Piuttosto che Ziantoni Invece De Bail E Cristiano Ronaldo Io mi devo fidare Indipendentemente dal fatto Che magari X o Y Non ci arrivi a prenderlo Perché non te ci vengono Insomma Al netto di tutte queste cose qui Io voglio pensare Che si faccia Una squadra Di giocatori forti Ma forti davvero Non soltanto forti Perché guadagnano Un sacco di soldi Oppure C'hanno una grande Cazza di risonanza Mediare Che cose di questo genere Quindi Il mio atteggiamento È sicuramente questo Dare Fiducia All'operato Della società Non fare bilanci Adesso Perché sarebbe Assolutamente Controproducente Lo dicevo ieri Mi sembra Quando è stata annunciata L'acquisizione Da parte dell'Inter Di Ansaldi Che è stato Molto spesso Accostata da Roma Dice Ma ecco Manco questa Io non cado In questo errore Assolutamente Io non voglio fare I bilanci quotidiani Alla fine di ogni giornata Io voglio vedere La squadra Il giorno Dopo la prima Sono discorsi Chiacchiere De qui De sotto Non serve a niente Serve fare Non servono le parole Credo che sarà difficile Togliere questa sorta Di mania Che il Presidente C'ha di lasciarsi andare Di rispondere Di fare Che se tu ci pensi bene L'unico che si espone Un pochino Fa come gli pare No Però io ho l'impressione Che lui Ancora Non abbia capito Perfettamente Quanto una sua dichiarazione Una città come Roma Per come Roma Vive la Roma Possa avere un peso E questo credo Che sia un pochino Il limite Diciamo Se vogliamo No Di questo Presidente Che forse Non vivendo La realtà Quotidiana Tutti i giorni A 360 gradi Probabilmente Non ha Capito al 100% Che cosa Rappresenta la Roma Per Roma E soprattutto Per i tifosi della Roma Piano piano Si avrà voglia Lo imparerà Insomma No Eccolo Vatti Chi è lui? Mimo Riccardo Posso approfittarne Un attimo? Devi Vorrei mandare Un saluto Un abbraccio A un grande tifoso Della Roma Che si chiama Alessandro Scortecci E quindi Gli auguro Tante belle cose Tutto qua Mimo È un amichetto mio Alessandro Amico mio Che io devo chiamare? No 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 Vai tranquillo Ti ascolta sempre Non ti preoccupare Ma è un amico sul serio Oltre che essere un amico Sul serio Non ti preoccupare No no ma lo so Lo so che siete amici Ma mi hai fatto prendere un colpo Per come me l'avevi detto No Mo chiamo subito Vedi tu dai Tanto ti ascolta sempre Sì no 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 Lo so Lo so Abbiamo passato tanto Tanto tempo insieme Senti Mimo Allora Io mi trovo d'accordo Su tutto Sul fatto Della Speranza Della squadra forte Perché poi Mimo Forse anche l'altra sera Con la partita della nazionale Ci siamo resi conto Che ci sono dei giocatori Che possono giocare solo Exclusivamente Nella Juventus Perché sono una squadra Perché se no Tu dici che siccome Bonucci Era diffidata Ha avuto paura di far giallo Mentre in la Juve È stato 20 giornate Consegute di diffidata Non ha mai preso No a me quello di Mi chiedo perché Dimmi te sì Ricca Ti dico anche di sì Se non ti riconosco più Ti dico anche di sì Mi chiedo come mai Sturaro possa giocare Sturaro chi scusa Sturaro Sturaro Devi parlare italiano Non devi parlare in dialetto Storario 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 Esatto Ti ricordi Sormani 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 come state Tutto bene Signor Mani Tutti a dirla Sormani 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 Ma questa confidenza Però manco no E invece De Bonucci Mimmo quando ha fatto Quell'uscita Ha capito che l'avrebbe persa Quante volte era punizione In Italia Mì quella Eh De più De più Di una cifra Io ce ne metto uno De più dai Senti Mitte Voi avventurare in un pronostico Dai Di ricato a che scusa A quello di cui abbiamo parlato Fino adesso Eh da Roma Sì Allegato a che Fammi capire A chi se ne va O a chi rimane A chi se ne va Eh Giantoni Viene consigliato da Roma Giantoni mi sa che già ha fatto Eh manca ha salutato Niente Manca è nato qua da solo Ti vuoi dire una cosa? Sì È veramente un inciovile Veramente Io lo penso davvero È sottoscrivo È sottoscrivo Eh Sono andati via tanti Ricca Ucian Keita Maicon Pjanic Emerson Tramvieri Bassa dai Quanti ne vuoi Da via ancora Dai Eppure sai che abbiamo saputo Di Emerson Che l'allenatore Stravede per lui? Assolutamente sì Però io ti ho parlato Di Emerson Tramvieri Io Mica di Emerson Palmieri C'è raggiù C'è raggatuto Devi sta attento Perché così l'hanno chiamato I Coppa Italia Quando ha giocato contro lo Spezia Entra in campo Emerson Tramvieri No non c'è che uno Come stiamo Però va bene Mamma mia Senti a me Ma Che ti è capitato ieri Di sentire Marcon? Devo dire che è un bel paraculo Eh Grazie No mi è piaciuto molto Lo sai perché Ricca Perché a sentire lui A parte siamo davanti Alla reincarnazione Di un misto Fra Messi Cristiano Ronaldo e Iniesta ha detto allora mio figlio può giocare davanti alla difesa da volante a centrocampo da trequartista in porta proprio niente affatto no però se ti dico una cosa tu pensi che Marcon ha fatto il bene del fio Marcao questo è un personaggio a Rio de Janeiro ne parlano i giornalisti ne parlano in una certa maniera aspetta dimmi un po' e vabbè poi te lo dico dopo quando te chiamo due e basta sentimi aspetta che c'è una domanda di un ascoltatore Andrea che dice riccappo chiedere a Mimmo che cosa non l'ha convinto del primo Spalletti e cosa lo convince oggi da considerarlo anche giustamente come la sua prima garanzia del primo Spalletti non mi ha convinto il fatto, cioè mi ha convinto quasi tutto non mi ha convinto il fatto che insomma lui era il primo Spalletti ok? e che non aveva ancora maturato esperienza ad esempio all'estero che l'hanno portato a vincere tutto quello che ha vinto non mi convinceva il suo essere troppo a un certo punto ombroso permaloso presuntoso del secondo Spalletti mi convince ha la sua straribante e straordinaria personalità e il suo aver capito tante altre cose che probabilmente nel corso della prima esperienza non aveva capito proprio di come in qualche modo va affrontata la piazza di Roma e oggi Spalletti io lo metto fra i più forti allenatori che ci sono nel campione italiano e lo reputo sicuramente fra i primi in Europa per quello che ha fatto perché noi non ci dimentichiamo che poi non è così facile vincere all'estero se tu vai in Russia e comunque vinci vuol dire che sei bravo perché altri che sono andati hanno preso i pali proprio pieni pieni in faccia capito Ricca? sì e quindi bisogna dire che questo è un signor allenatore molto bravo io spero che possa avere il conforto sempre totale al suo fianco al 100% della società e della squadra sono te lo devo dire un tantinello preoccupato perché non so se tu eri ancora nella grande mela lì a fare il provino per Ediosidio se eri già tornato sì ma lui ha detto che non firma rinnova il contratto perché ha detto che voglio firmare anno per anno io Ricca scusami non ci credo non ci credo e penso che invece lui voglia vedere insomma come si muoverà la società in funzione del mercato e poi eventualmente deciderà ma è una mia sensazione Riccardo c'è e io sai quanto credo io alle sensazioni cioè mi stai dicendo che anche tu lo metti no 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 questa è tutta roba tua ma te dai con il suo tiro a giacce le mamme c'è gli dai gli dai gli levi gli dai e gli metti gli levi e gli metti capisco Riccardo e allora fatte conto fatte conto mi ah davvero? eh sì vi sentiamo domani sempre se Dio vuole ciao a tutti ciao Mimmo ciao Mimmo ciao Mimmo ciao Mimmo ciao 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 ciao